Doron Lemb, benvenuto a Brindisi. Qual è il suo stato di forma? Sto bene, sono felice di essere qui, sono felice di essere qui, sono eccitato e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Ecco, dovrebbe essere disponibile già domenica prossima con la Virtus Bologna, che lui ha battuto a Bologna con Scafati. Sì, sono felice di essere qui. Come detto, sono felice di essere qui, devo solo rimettermi in forma e sperare di essere pronto per la prossima partita. Cosa possiamo dire ai tifosi dell'Epic Abbas a Brindisi? Non vedo l'ora di conoscervi, spero che sia una stagione felice. Buon lavoro! Grazie, ciao!